Travolse ed uccise un ciclista cortona, adesso l'automobilista, un 63enne di Fogliano, potrebbe andare a processo. Il pubblico ministero della procura di Arezzo, Chiara Pistolesi, a conclusione delle indagini preliminari del procedimento penale per il tragico incidente costato la vita Pasquale Panichi, 73enne cortonese, ha chiesto infatti il rinvio a giudizio per l'automobilista che travolse l'anziano in bici che è imputato per il reato di omicidio stradale. Il gruppo del tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, adesso ha fissato l'udienza preliminare del processo per il prossimo 25 giugno. Il drammatico incidente si verificò lo scorso 15 novembre in pieno giorno alle 13.40 nel centro abitato di Cortona, lungo la strada provinciale 30 delle Chianacce, peraltro in condizioni di guida ottimali, cielo sereno, fondo stradale asciutto, segnaletica presente, su quel tratto vige il limite di 50 chilometri orari, a causare il tremendo impatto, una mancata precedenza, il ciclista riportò un politrauma, lesioni cranico-encefaliche e cervicali che ne determinarono la morte sul colpo.